Cari amici roditori, il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e ho uno scoop stratopico per voi! Ho appena registrato l'audioguida dedicata all'antico Egitto per la mostra che si terrà al Museo Mudec dal 13 settembre 2017. Se non state nella pelliccia per la curiosità, visitate il sito www.geronimostilton.com SQUIT!